Benvenuti a Occhio ai Giornali, oggi è giovedì 24 giugno, questa è FanoTV, canale 17, visibile in tutta la regione Marche e soprattutto anche sui device, quindi sui telefonini, anche su internet, all'indirizzo occhioallanotizia.it Allora oggi la chiesa ricorda, la chiesa cattolica ricorda la natività di San Giovanni Battista, il sole è sorto alle 5.27 e tramonterà anche questa sera alle 20.59 Questa mattina andiamo a vedere il sito della protezione civile delle Marche, per oggi giovedì 24 vedete avremo cielo sereno o poco nuvoloso per il temporaneo transito di nuvole medio-alte, ci sono un po' di venti moderati nel pomeriggio, domani invece ecco la sorpresa, vedete nella seconda parte della giornata ci sono possibilità di isolati rovescio temporali più probabili nel pomeriggio nelle zone montane, poi di sera, quindi domani sera anche nelle zone collinari e costiere, le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, poi questa è la giornata di sabato invece, eccola qua avremo ancora possibilità di isolati rovesci ma soltanto nelle prime ore della giornata e in montagna, quindi sui sibillini, per il resto diciamo che il tempo sarà stabile anche per la giornata di domenica. Dunque con il nostro bagnino Nicolò, quindi siamo i bagni Maurizio a Sassonia di Fano, ma non solo bagnino ma anche titolare, lo ricordiamo, quest'anno si è messo in questa attività che comunque lo impegna. Quante ore lavori durante la giornata d'estate? Eh, tanto dalla mattina fino alla sera, fino a quando non si va a casa. Quindi non si stacca mai? No, mai. Ecco, ma bagnini donne esistono ancora? Ci sono le ragazze che fanno attività di salvataggio piuttosto che? Ma sì, noi ce l'abbiamo, una ragazza che ci fa il salvataggio al pomeriggio. È chiaro che lì il problema qual è? Che a livello proprio di salvataggio non è tanto la figura femminile o maschile che cambia, è che gli si chiede magari ai ragazzi di fare anche del lavoro fisico pesante prima di fare quello o dopo. E magari, capito, portare lettini o fare altre cose di fatica per le ragazze rimane un pochino più complicato. Noi non abbiamo questo problema, quindi io ho una bagnina femmina. Ok, molto bene. Senti, allora ci dai le previsioni? Visto domani può darsi che domani sera qualche gocciolina di pioggia arriverà a rinfrescare, forse, speriamo, anche la costa, secondo il bollettino della protezione civile. Ti risulta che domani c'è questa perturbazione che potrebbe arrivare? Ma guarda, io tendo a guardare più le nuvole da dove vengono che ne altro, perché al mare c'è sempre un clima particolare, magari anche se non ha messo niente può fare un'acquazione all'improvviso, oppure magari anche se l'ha messa può passare più all'interno o può prendere sul mare, quindi non si sa mai com'è il tempo qua, è molto difficile. Oggi però confermi che è tempo buono? Oggi sì, sembra tempo buono, non vedo nuvole, c'è solamente un po' di foschia, perché tanto l'umidità, anche se non è come due o tre giorni fa, ancora è molto elevata. E quindi insomma, oggi è una giornata ideale per trascorrere al mare. Va bene, allora noi ci vediamo sabato mattina, grazie per questo collegamento, buona giornata e buon lavoro. Va bene, anche a voi, buona giornata a tutti. Allora, adesso andiamo a leggere i giornali, o meglio andiamo a vedere i titoli delle notizie che abbiamo selezionato per voi. Allora, secondo me ci sono due notizie importanti oggi e che sintetizza il Carlino nella sua prima pagina, l'edizione di Pesaro. Intanto la fotonotizia, processo a Dambera. Parliamo dell'omicidio di Ismaele Lulli, siamo a Sant'Angelo, in Vado. La ragazza ha giudizio per quel famoso SMS considerato dai giudici, un SMS trappola, perché attraverso quell'SMS il povero Ismaele pensava di incontrare Ambera, invece ha trovato i suoi carnefici. Mentre l'altra notizia importante è questa, nuovo ospedale, la Regione ha deciso. Lui dì in giunta il primo passo formale. Il luogo, case bruciate. Ma se Ricci dice no, ok, anche a Muraglia. Poi le altre notizie. Flaminia, Pesaro, ancora caos, sosta, scontro sui parcheggi con il disco orario. In via Spallanzani rimosso l'acquedotto romano. Il bilancio della Guardia di Finanza a tutto campo, scoperti 28 evasori totali. Poi, a Gabice, il caso degli stagionali che non si trovano. Ho le camere dell'hotel, praticamente dice questo albergatore è pieno, ma mi manca chi queste camere le pulisce. E poi il presidente invece pesarese degli albergatori, Oliva, che dice a Pesaro ho cancellato la Guardia Medica turistica. Il racconto, la mia avventura con la bicicletta per arrivare in Repubblica Ceca. E poi sotto il calcio a Rondini in C senza passare per la Vis. Talento pesarese di 19 anni attaccante. A Fiorenzuola ho trovato gol e promozione. Poi il basket, WL a caccia dell'accordo con Filloi. C'è ancora distanza tra domanda e offerta. Spinose anche le conferme di Cain e Filippoviti. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, l'inizio di Pesaro e Urbino. L'apertura è per la gara flop per Villa Marina. Zero offerte per la gestione dell'area sportiva di Viale Trieste, su cui il Comune ha investito. A pesare i tempi stretti e anche le condizioni economiche. Il bando dovrà essere riformulato. Mentre i primari vanno da Acquaroli, gelo dell'assessore, delegazione dal governatore. C'è Ciccioli al posto, o Ciccioli insomma, al posto del titolare alla sanità. E vedremo un po' le sfaccettature, se è davvero così come dice il Corriere Adriatico. Lo leggeremo proprio nell'articolo. È Marchigiano invece il carabiniere che ha salvato il piccolo Nicola. Si chiama Danilo Ciccarelli, ha 54 anni. Ed è di Monte Urano, in provincia di Fermo. Cruiser invece. Nessuno vuole l'albergo, nemmeno con lo sconto. Muraglia, via i resti dell'Acquedotto, il cantiere riparte. Poi Pesaro, dopo Frequellucci, per i 5 Stelle, spunta il nodo maggioranza. Svolta nel delitto di Ismaele, Ambera d'atteste a imputata, accusata di concorso anomalo in omicidio volontario, rito abbreviato per la ragazza che rischia fino a 10 anni di carcere. L'omicidio Lulli, quindi c'è questo rito abbreviato, il 22 settembre, il giorno della verità, l'accusa è di concorso anomalo in omicidio volontario, colpo di scena dunque ieri nel Tribunale di Urbino, dove si è svolta l'udienza preliminare per l'ex fidanzata di Iglimeta, passata da testimone dunque a imputata. La questione dei sanitari, i sanitari senza vaccino, abbiamo detto che sono ancora più di mille, 1.181 per l'esattezza, i sanitari che non si sono ancora vaccinati nella nostra regione, ma che lavorano ancora a contatto con le persone, con i pazienti, non hanno ancora la prima dose, questo è 1.181. L'Asur dice cinque giorni, poi partiranno i provvedimenti, sono partite le lettere per il monitoraggio, si può rischiare il demansionamento oppure la sospensione dello stipendio. Martina Marinangeli questa mattina ancora scrive, le strade percorribili sono sostanzialmente due, abbiamo detto il demansionamento ad attività non sul campo, quindi praticamente dalla corsia si passa all'ufficio, altrimenti si passerà direttamente alla sospensione to court del lavoro, senza stipendio. Per mappare il personale sanitario non ancora vaccinato, gli ordini professionali e datori di lavoro hanno già consegnato agli uffici regionali gli elenchi degli iscritti e dei dipendenti che per svolgere il proprio lavoro stanno a contatto appunto con i pazienti. Nelle Marche si diceva sono 1.181 gli appartenenti al personale sanitario che si trovano in questo limbo, ma non tutti sono no vax, quindi non tutti sono contrari al vaccino. Per esempio di questo gruppo potrebbero infatti far parte anche soggetti che hanno contratto il virus e avendo ancora gli anticorpi hanno chiesto di posticipare la profilassi. Per quanto riguarda la pandemia ancora, premi al personale dalla regione in arrivo altri 6 milioni di euro, riprogrammati i fondi europei, l'assessore al bilancio Castelli dice la commissione ha approvato la modifica, poi il dossier sulle terapie intensive, l'occupazione nelle Marche è ben al di sotto di quel 30% richiesto, siamo al 3%, quindi insomma davvero poche persone sono ancora in terapia intensiva, nei reparti 32 casi sotto osservazione, il pronto soccorso Covid free e poi c'è un positivo in pediatria ad Ancona. Sotto invece la notizia che riguarda un po' tutte le regioni, quindi anche la nostra, tagli nelle forniture del siero Pfizer, Figliuolo, il commissario straordinario parla ai governatori e dice questo taglio sarà del 5%, e quindi però dicono, almeno sostengono, che non dovrebbero esserci ritardi nelle vaccinazioni. Adesso parliamo invece di quella storia che ha commosso l'Italia, il ritrovamento dopo due giorni di quel bambino di appena due anni, è stato ritrovato da un giornalista, un collega della vita in diretta, Rai 1, che poi lo ha consegnato ad un carabiniere che è diventato il simbolo. Con questa foto che vi facciamo vedere attraverso il Corriere Adriatico, questo carabiniere è il comandante Danilo Ciccarelli, è di Monte Urano, siamo in provincia di Fermo, dunque è un marchigiano, ieri ha tratto in salvo il bambino sparito dalla sua abitazione al Mugello e lui parla ovviamente al telefono dicendo che è stata un'emozione unica. una vicenda che, come dicevamo, ha due eroi, Giuseppe Di Tommaso inviato della vita in diretta e Danilo Ciccarelli, il comandante ha trascorso la sua infanzia a Monturano, dove è rimasto fino all'età di 20 anni. Poi racconta al telefono con Massimiliano Viti, al telefono con Massimiliano, dice che era questo bambino in una scarpata sotto l'erba alta e chiamava la mamma. Poi racconta ovviamente di questi momenti, così che evidentemente quell'abbraccio che porterà sempre con lui, porterò sempre con me, dice il comandante, come la nascita di un figlio, insomma la stessa emozione. Ora invece, tutt'altro argomento, qualche settimana fa, tre settimane fa, per l'esattezza come racconta Andrea Taffi sulle colonne del Corriere questa mattina, c'è stato un incontro che pareva apparentemente normale, un incontro di routine, tra alcuni primari, una decina di direttori di unità operativa complessa e il governatore Acquaroli. Dunque, si parla ovviamente, si è parlato di sanità. Solo che parlando appunto di sanità, sappiamo tutti che il titolare nelle Marche della Sanità è l'assessore regionale Saltamartini, il quale però non era presente a questo incontro. Al suo posto chi c'era? C'era un esponente dei Fratelli d'Italia, nonché Carlo Ciccioli, o Ciccioli, poi prima o poi lo chiamerò per sapere come si dice e me lo segnerò da qualche parte. Allora, evidentemente, scrive Andrea Taffi, all'oscuro di questo incontro, e tanto è bastato per accendere un vespaio di chiacchiere che da più di una settimana hanno messo in agitazione i corridoi di Torrette alla luce del concomitante inizio della campagna di ascolto sul piano sociosanitario che proprio il governatore Acquaroli ha avviato la scorsa settimana da Sasso Corvaro. La materia è scottante, il piatto è molto ricco, la sanità occupa l'80% del bilancio della Regione Marche e Torrette ne è il fiore all'occhiello. A questo punto, dopo mesi di pandemia, sembra essere arrivato il momento chiave, quello in cui il centrodestra dovrà far capire cosa intende fare degli ospedali, quelli da costruire e quelli esistenti, della sanità territoriale e per venire ad argomenti più prosaici anche delle figure dirigenziali che guideranno i prossimi quattro anni di Acquaroli. E poi l'articolo continua. Ma sul resto del Carlino si parla del nuovo ospedale appunto di Pesaro. Intanto viene totalmente, scrive il giornale questa mattina, Benedetta Iacomucci, viene totalmente demolito il percorso realizzato dall'ex governatore Luca Ceriscioli che viene sintetizzato in questa pagina del resto del Carlino che vi invito a leggere. Allora, l'idea iniziale qual era? Il precedente governo, quindi Luca Ceriscioli, prevedeva per la sanità pesarese un ospedale unico, cioè non spezzettato in tre presidi, due pesaresi e uno fanese, di secondo livello alternativo ad Ancona e da realizzare a Muraglia. Il progetto. La struttura si sarebbe dovuta realizzare attraverso il project financing con la Renco Pesarese che aveva presentato un progetto poi scelto dalla regione con la dichiarazione di pubblica utilità. Le risorse, e qui ci sono tanti soldini, ammontano 120 milioni già disponibili. Poi cosa è successo? Che con la vittoria del centrodestra alle regionali il progetto dell'ospedale unico e quindi del project financing sono stati accantonati. Ora si parla di ospedale nuovo, quindi non più ospedale unico, ma ospedale nuovo di primo livello e non di secondo e si propone il sito di case bruciate, ma Pesaro invece tira dritto su Muraglia. Ora anche qui vedremo questo braccio di ferro come andrà a finire. Intanto il titolo di questa notizia è stessi posti letto, nessuna unione con Fano, la regione mette nero su bianco e il nuovo ospedale. Lunedì, primo atto formale in giunta per la modifica del piano, poi la partita sarà su case bruciato, Muraglia, affossato il progetto della Renco. Ora a questo punto io credo che siccome non ci sarà nessuna unione con Fano, dunque, che cosa succederà all'ospedale di Fano? Questo dovrà essere chiarito, questo bisognerà chiarirlo, verrà potenziato dunque l'attuale ospedale Santa Croce, quali altre strade? Insomma, a questo punto davvero dalla regione, così come ha fatto qualche giorno fa Ricci, bussando, dicendo che cosa volete fare dell'ospedale a Pesero, qualcuno a Fano dovrà bussare e dire che cosa volete fare dell'ospedale a Fano, perché altrimenti qui si rischia, come sempre, di rimanere un po' a margine della questione. Il commissariato invece, qui parliamo di pubblica sicurezza, è in sofferenza, qui siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, poco personale, servizi a rischio, l'allarme è di Stefano Polligioni dell'Udc, che parla di questo annuncio delle forze dell'ordine in arrivo, un annuncio che era stato dato proprio da Matteo Salvini, i numeri in realtà sono risicati, quindi evidentemente non è tutto rosa, non è tutto oro quello che luccica, ma comunque questo è. Mentre rotatoria di via Campanella, caos per i lavori in ritardo, sotto Anas, misure anti disagi in tre cantieri stradali, l'accordo trovato con Confcommercio e Federalberg. Andiamo a vedere l'altra pagina invece di Fano, del Carlino, la ciclovia me la faccio da solo, Ermanno Cavallini ha costruito delle bici ferroviarie per pedalare sulle rotaie, il mio sogno un parco urbano e Anna Marchetti del Carlino ha intervistato Cavallini che mostra in questa fotografia i suoi prototipi, il biposto e il monoposto invece qui in alto a destra, insomma, sulle quali poi ecco, io credo che non si possa fare questa cosa, comunque va bene, anche perché è un'area privata, non credo che si possa andare sulle rotaie, però va bene, forse, Ermano Cavallini lo sa, ma evidentemente lo ha fatto per la fotografia, ma per il resto non si può andare su quel tratto lì, è un'area privata gestita dalle ferrovie, quindi, vabbè, comunque, il canale Albani invece ha già sete dal pozzo Aset 300 mila litri, siccità, livello calato di mezzo metro, Mascherin dice anticipiamo l'immissione, dunque, quello che è un dato di fatto purtroppo e questo preoccupa perché siamo soltanto all'inizio dell'estate, siamo ancora nel mese di giugno e già parliamo di siccità e di un livello che è calato di mezzo metro e quindi a chiamarla siccità non si fa certo la figura degli allarmisti e se comunque si fatica ad accettare che quest'anno sia arrivata prima del solito basta guardare le previsioni che nel breve medio termine escludono precipitazione a parte quelle di domani ma che serviranno a poco a niente perché ci si rassegna appunto all'idea quindi questa è un po' la situazione l'articolo di Andrea Maduzzi l'assessore dice con i lavori all'invaso di San Lazzaro il rilascio fino al 5 luglio sarà ridotto poi cani da tartufo in spiaggia all'isla Morada domenica l'iniziativa grazie all'acqua lagnese Urbinati Torrette presenta gli eventi tartufo dunque che viene in spiaggia già di per sé è affascinante Baia Flaminia ora la sosta con disco orario siamo a Pesaro ed è sconto tra commercianti e residenti quello che noi abbiamo assistito a Fano qualche giorno fa per i parcheggi sempre sul lungomare in zona Adriatico si replica a Pesaro in zona Baia Flaminia l'hanno voluta e ottenuta i titolari del negozio in via Bruxelles e Piazza Europa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 massimo 60 minuti però nella zona monta la protesta gli abitanti preferiscono infatti che le strisce bianche siano trasformate in blu quindi scontro tra chi vuole blu chi vuole bianco commercianti residenti e quindi è così intanto l'acquedotto l'acquedotto romano a Pesaro è stato smantellato spuntano monete romane l'opera idraulica di via Spallanzani è stata rimossa è stata rimossa dal suo tracciato e quindi spostata i soldi del secolo del secondo secolo sono stati trovati invece in strada Carloni ed è stato traslato questo acquedotto come un po' come è avvenuto anche se il paragone è un po' così però come la Santa Casa di Loreto l'acquedotto romano di via Spallanzani è stato rimosso e spostato di qualche metro per permettere l'edificazione della palazzina la sovrintendenza chiede un intervento finanziario a Marche Multiservizi per avere una mappatura di questa antica condotta una delle poche funzionanti ancora da duemila anni dell'intero territorio nazionale dice Francesco Ferri ma non si arriva a conclusione e questo per dire così come i punti spesso i romani vengono tirati in ballo anche per la solidità dei ponti i nostri cascano pur avendo alle spalle fiorfiorti ingegneri che ci lavorano e ci studiano i romani duemila anni fa li facevano invece e ancora stanno là il cruiser invece parliamo di adesso di questo albergo che pur essendo a prezzo scontato non è evidentemente appetibile nessuno si è fatto avanti ribassata meno di 6 milioni la base di partenza l'asta va ancora deserta per questo hotel che si trova in Viale Trieste quindi insomma in una bella zona un altro ribasso nessuno si è fatto avanti ieri mattina è scaduta la procedura che ha visto l'immobile sul mercato a una base di 5 milioni 750 mila euro poi andiamo a vedere l'altra pagina del Corriere andiamo su Valle Foglia Ucchielli Ucchielli che ha voluto esagerare questa volta va oltre all'estate e mentre tutti gli altri fanno i programmi fino alla fine dell'estate insomma per tutta l'estate lui arriva fino a dicembre quindi fino a Natale presentate le notti bianche verdi e azzurre delle stelle e dei castelli poi ancora bidone dei rifiuti al terzo piano dell'ospedale segnalazione qui siamo d'Urbino segnalazione di un paziente una volta Caglia aveva i reparti ed era una struttura efficiente che qui vedete come la gente continua a lamentarsi di come sia stata ridimensionata quindi con tutti i disagi in molte strutture ospedaliere dell'entroterra soprattutto la testimone Ambera qui è la cronaca e la pagina di Urbino la testimone Ambera diventa imputata il legale di Igli dice procedimento inficiato sul delitto Lulli rito abbreviato per la giovane l'accusa è concorso anomalo in omicidio volontario le ipotesi del difensore di meta no revisione ma possibile ricorso alla corte europea giovani teppisti invece sempre dalle pagine interne polizie sindacati vanno dai cittadini domani alle 21 l'incontro in piazza rossa a Cagallo presente anche la sindaca poi passata la paura Urbino torna a giocare da domani al via le tre giorni al parco della resistenza ludoteche tornei anche per esperti terapia ludica laboratori per i più piccoli vogliamo dice Fabio Paolucci riportare un po' di gioia in città per i bambini e anche per i grandi l'ingresso è gratuito da Fossombrone zona bianca tornano i ladri scatta l'allarme nella vallata colpi sull'asse Fossombrone colli al metauro le vittime postano le foto sui profili social puntuali come sempre scrive Roberto Giungi con lo scoccare della bella stagione sono entrati in azione i topi d'appartamento sull'asse Fossombrone colli al metauro a giudicare dalle foto che alcune vittime hanno postato dopo le incursioni si può essere certi che la banda che sta operando è la stessa e quindi insomma con la zona bianca torna anche insomma tornano anche i furti andiamo sulla pagina della Val Cesano invece qui da Serra Sant'Abbondi andate piano e ricicliamo arrivano i cartelli dei bambini realizzati dalla scuola dell'infanzia dei frontoni di Serra i sindaci li utilizzeranno tra l'altro questo è anche molto come dire semplice ma efficace ed incisivo guardate cosa hanno scritto andate piano in questo paese i bambini giocano ancora per la strada più chiaro di così si vuole allora andiamo invece sulla pagina adesso di Senigallia perché anche qui il sindaco Olivetti è alle prese con un problema insomma non da poco questi vandali che continuano a scorazzare e a fare di tutto di più durante la notte nei vari stabilimenti balneari e quindi cosa ha deciso di fare il sindaco ha deciso di blindare da domani a mezzanotte le spiagge bar chiusi alle 21 ci sono alcune d'ero che sono nove dobbiamo prepararci a prevenire episodi di vandalismo chiedo più controlli quindi Senigallia ha un problema di questa portata di vandalismo che addirittura cioè per colpa di quattro scalmanati probabilmente ci devono rimettere tutti quanti quindi bar chiusi alle 21 comunque questo è un po' addirittura barista picchiato identificati due aggressori sarebbero di Chiaravalle di Corinaldo questi due giovani che sabato sera hanno aggredito questo barista sul lungomare a Lenghieri a Senigallia mentre tornava a casa in monopattino e lui li ha riconosciuti tramite i social chiudiamo con lo sport perché due pagine che riguardano il Fano sapete il Fano è alle prese con una dirigenza che non vuol più non se la sente più di portare avanti questa avventura che è iniziata ed è finita a quanto pare in un amen il Fano è ancora un rebus previsto per oggi un altro incontro del sindaco Seri con un imprenditore per dare certezze al club Granata fattò fidani che il presidente deve pagare gli ultimi stipendi entro lunedì poi si potrà puntare ad una riammissione in Serie C ma sul Carlino il titolo lascia poche speranze gli imprenditori locali stanno alla larga addirittura stanno alla larga dalla società i sondaggi del sindaco Seri non hanno portato a nulla è difficile trovare rinforzi in questa situazione e dunque insomma per il Fano per ora non ci sono grandi speranze intanto noi ci salutiamo qui vi ricordo sì ti ringrazio allora lo vediamo subito allora c'è stato un incidente probabilmente mortale a Metauriglia di Fano tre pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza lenzuolo a terra sulla statale subito dopo la chiesa sulla sinistra a Metauriglia ok allora grazie per questo aggiornamento come vedete la redazione adesso si sta muovendo per darvi conto di questo di questa notizia di cronaca noi comunque ci salutiamo qui ci diamo appuntamento come dicevo stasera alle 20.30 con il telegiornale per gli aggiornamenti invece vi invito a consultare il nostro sito internet occhio alla notizia punto it buona giornata a tutti la notizia hadonya buona giornata la notizia lusica lusica attra lusica lusica di